Prima Radio L'universo femminile ha mille sogni chiusi nel cassetto, in un cassetto della sua mente ma non sempre tutti i tasselli di questi sogni coincidono con il puzzler perfettamente della vita però possiamo dire che Antonella Giotti è una delle poche donne che ha fatto coincidere questi sogni con la realtà della sua vita e ne ha realizzati moltissimi Ciao Antonella Buonasera a tutti, devo dire che sono riuscita intanto a conciliare quegli aspetti che sono fondamentali di madre e di donna che è la cosa essenziale assolutamente e poi tutto il resto, però uno a uno, un tassello per volta ci sei riuscito conduttrice radiofonica, televisiva, modella over ovviamente, grey come si dice oggi hai seguito, hai fatto numerose trasmissioni sì e poi anche la passione per il teatro sei avvocato sono avvocato ma l'avvocato lo fai di professione o nel tempo libero fai il resto o viceversa? allora l'avvocato è sicuramente quella professione di base che ti consente di avere anche quella sensibilità a temi importanti come possono essere violenze di genere, forme di bullismo, le tematiche sociali e questo poi mi ha portato da lì ad organizzare convegni di sensibilizzazione convegni in cui ho sempre cercato di non fare solo l'avvocato ma di coinvolgere un po' tutti un po' tutti, quindi non solo il medico, lo psicologo ma anche l'artista, il pittore che poteva far vedere quella problematica sotto sfaccettature diverse totalmente diverse il regista ma anche un libro un libro può far vedere una tematica sotto sfaccettature diverse oggi ti vediamo nelle vesti conduttrice televisiva su una televisione web sì, la tua film rouge tv e la tua trasmissione è coffee time esattamente ma di che cosa parli? di che cosa tratti? allora intanto cosa è intanto una tv web? allora una tv web intanto saluto l'editore di Filorogio TV Carlo Valenti è una tv come tutte le altre la differenza fondamentale è che non c'è per carità un canale televisivo che vai lì col telecomando a piggiare ma ce l'hai costantemente presente perché vai in streaming l'hai su Facebook si può creare la pagina YouTube ma soprattutto ti dà in modo non solo di fare le dirette ma di ritornare a rivedere a rivedere la parte che hai perso che non hai capito assolutamente che non hai capito che non hai ascoltato assolutamente è un ottimo vantaggio quante puntate di coffee time fino adesso hai fatto? allora siamo arrivati proprio stamattina era la sessantaduesima perché sarebbero state molte di più perché ho cominciato a gennaio del 2020 fermi purtroppo il 10 marzo per la quarantena e sono stata richiamata da Carlo Valenti adesso a dicembre bellissimo sì molte sono le tematiche di cui tu parli tematiche passate tematiche presenti e comunque ti avvali sempre di un ospite ho visto sì mi avvalgo sempre di un ospite ti devo dire che Carlo Valenti mi ha dato piena carta bianca assolutamente non come quella di Totò no 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 mi definisce anche una cavalla pazza perché tu non sai mai quel giorno che cosa puoi aspettarti cosa puoi trovare a Coffee Time infatti perché Coffee Time sì 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 tra aprile e maggio credo e parlerete o parlerai di fobie ossessioni sì un argomento bello forte ma sarai da solo o ti avverrai di qualche collaborazione specifica? no no accanto a me c'è l'immancabile Angela Ganci psicologa psicoterapeuta ma anche giornalista che con la quale ho già parlato dei disturbi delle perversioni sessuali affrontando non è il primo argomento che trattate no 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 avevamo già cominciato appunto pre quarantena e adesso avrebbe dovuto farsi vedere puntualmente sì solo che non è stato possibile purtroppo non è stato possibile e adesso ovviamente come non parlare della depressione dell'ansia dello stress che sono seguiti ma senza dimenticare e questo sarà l'argomento di giorno 12 quei conflitti familiari che in alcuni casi in questo periodo di quarantena sono stati accentuati molto più accentuati perché anche le coppie che vanno d'amore e d'accordo ultimamente vedo che hanno degli screzi hanno avuto notevoli screzi spesso si è ritornati a stare insieme anche in casi di separazioni legali per amore dei figli ma in altri casi è stato veramente drammatico perché quello che già non andava bene si è soltanto acuito dunque riprenderai a quanto pare subito fra un po' la tua trasmissione confitta si si diciamo che ho già ripreso a pieno regime dal lunedì al sabato dalle 10 e 30 in diretta ogni mattina quindi a pieno ritmo si assolutamente e tratterai uno dei temi che a te stanno tanto a cuore che sarebbe il femminicidio magari in sottovesti differenti però lo tratterai sottoversi un po' più diciamo amplificate perché ormai è più corretto parlare di violenze di genere che non solo di femminicidio ma anche le donne sono tremende e anche le donne altro che io come avvocato ho avuto anche casi di uomini maltrattati non solo verbalmente ma anche fisicamente addirittura è un'energumena esatto esatto anche se le parole feriscono in modi veramente si dice che la lingua mi è da vittime più delle mani assolutamente e io fino al 4 mattina ho avuto con me in diretta Lidia Vivoli che saluto e che sopravvissuta ecco miracolosamente ad un'aggressione del compagno anni fa ha riportato la sua storia però anche con lei vedi Coffee Time l'ho chiamato così proprio perché è un angolo da caffè è un momento di chiacchierate di confronto dico sempre questo dove ognuno si rilassa e dice apertamente quello che pensa si parla si scambiano idee si scambiano opinioni si scambiano creazioni che da parte di scrittori e il caffè c'è assolutamente ma gliel'ho fin diretta no non in diretta male non in diretta ci stiamo organizzando anche per questo hai fatto anche degli spettacoli di beneficenza si parecchi dove hai regalato tanti sorrisi a grandi e a piccini si perché mi occupo di clown terapia presso l'ospedale Cervello con Chiama alla Sicilia anche queste attività purtroppo per il momento sono state sospese le ho cercate di portare in spettacoli teatrali finché anche quelli per il momento non si sono dovuti interrompere di questi spettacoli tu hai fatto la presentatrice ma non solo hai fatto la presentatrice hai fatto la modella però io ti ammiro grazie perché tu sei pronta sempre a metterti in gioco brava mi metto in gioco e non hai paura dei commenti che gli altri possono fare su di te stendono una modella nata come modella no ti devo dire che i commenti se soprattutto capisco che sono fatti in modo costruttivo possono essere per me soltanto un motivo di crescita ma tu lo sai che non sono fatti solo in modo costruttivo assolutamente forse noi donne siamo quelle più cattive più cattive sicuramente ma li prendo per quel che sono assolutamente per fortuna ho quella quell'elasticità per capire cosa prendere ti metti in gioco e cosa non prendere e ridi su te stessa si si rido su me stessa autoironizzo tantissimo brava non ti sei sentita mai fuori luogo in qualsiasi cosa che fai non c'è non ti senti fuori luogo più che fuori luogo a volte mi domando ma sono adatta a far questo però se non mi metto in gioco non lo posso sapere appunto quindi faccio intanto quella cosa poi ne tiro le somme e capisco se è il caso di continuare o meno sei anche comandante nazionale della legione di Giovanna d'Arco o i cavalieri templari ma che cosa sono fanno parte ancora delle crociate sono riesumati sono redivivi allora a proposito di riesumare i cavalieri templari federiciani si riallacciano appunto all'epoca di Federico II come ordine cavalleresco di rievocazione storica religiosa ovviamente prendendo la parte migliore di quel periodo quindi l'apertura di Federico II verso tutte le religioni tutte le idee tutte le culture e nasciamo soprattutto per far del bene quindi assistenza ad anziani donne bambini tutti i soggetti deboli apertura a tutti i valori assolutamente molti comunque su Facebook ti conoscono è quella che cucina infatti a Coffee Time poco fa mi hai detto a Coffee Time stiamo ultimando intanto è andata avanti per tanto tempo Phil Rouge Cooking dove si andava proprio nei ristoranti e nei locali a vedere cucinare gli chef adesso invece stiamo ultimando la cucina all'interno degli studi ma non ti vedo come Antonella Cleric bionda ci sei ma non chiattona Antonella Giotti sarà a pranzo con Antonella Giotti è ultima fra le tante cose nel 2019 fai un calendario ma nuda? no no assolutamente allora veramente ne ho fatti due sempre vestita uno nel 2017 con vittina vespa ed era sulla legalità ricavato andò a regalami un sorriso proprio per i bambini all'ospedale cervello da ultimo invece con Clotilde Guarnaccia di Insieme Per eravamo tutte donne oncologiche siamo state alle cantine a Marsala Pellegrino abbiamo anche bevuto oltre a fare ma si deve sempre e brindare ogni occasione perché il motto era proprio quello di prendere tutto con allegria il meglio e allegria Prima Radio